pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci consegna un testo duro tagliente ma estremamente importante per la nostra vita mediante la parabola dei vignaioli omicidi gesù fa una sorta di sintesi della storia della salvezza e anticipa la sofferenza che dovrà affrontare egli mette in guardia e ammonisce soprattutto i capi religiosi del popolo di israele che stavano per prendere una strada sbagliata questi infatti nutrono intenzioni cattive nei suoi confronti e cercano di eliminarlo la parabola descrive allegoricamente un padrone che dopo aver curato la sua vigna la affida dei vignaioli poi al momento del raccolto manda i servi per ritirarne i frutti ma quei vignaioli rifiutano i servi li maltrattano li bastonano li uccidono il padrone ne manda altri ma li trattano allo stesso modo infine manda il figlio pensando che ne avranno rispetto ma i vignaioli tramano contro di lui e lo fanno uccidere per impossessarsi dell'eredità miei cari l'immagine della vigna è molto chiara rappresenta il popolo che dio ha formato con il quale ha stabilito l'alleanza a cui ha donato tutti i suoi beni popolo che ha affidato alla cura dei vignaioli appunto in questo caso in capi religiosi del popolo i servi mandati sono i profeti il figlio è figura di gesù noi vogliamo soffermarci sull'atteggiamento dei vignaioli cogliendone tre coordinate esistenziali molto importanti per la nostra vita qual è il problema dei vignaioli il primo grande problema è quello di essersi impossessati della vigna dimenticano che la vigna non è loro e si rifiutano di rendere i frutti al padrone abbiamo qui sotto il tema dell'ingratitudine del possesso del sentirsi padroni vedete i miei cari sentirsi padroni della vita è un delirio di onnipotenza che spesso porta fuori strada e basta guardarsi attorno per capirlo se penso di essere io il criterio ultimo dell'agire di non dover rendere conto a nessuno della mia vita quale sarà il mio limite quale sarà il margine il criterio del mio agire del mio scegliere pensate ad esempio in una chiave esistenziale come si vive quando si pensa di dover tener tutto sotto controllo che nulla debba sfuggirci di mano che tutto debba andare come diciamo noi come si vive ansiosi tesi pronti a scattare come una molla nel momento in cui ci si sente minacciati o pensate come si vive quando non si ha sperimentato la tenerezza del padre la sua provvidente cura si vive come se fossimo il mito di atlante col mondo sulle spalle come se tutto dipendesse soltanto da noi in una continua ansietà per l'oggi e per il domani o pensate come si vive quando si riduce tutto a un possesso quando chiediamo alle cose sicurezza quando ci abbarbichiamo alla realtà o pensate a quando si riducono gli altri a possesso o comunque ci si sente in fondo padroni della vita degli altri si diventa incapaci di ascoltare profondamente l'altro presi dalle proprie prospettive ad esempio si tarpano le ali alle persone a cui vogliamo bene perché presi da una gelosia ossessiva o si impedisce ai figli di sbocciare nella loro vocazione perché abbiamo i nostri progetti su di loro eccomi cari il primo problema serio dei vignaioli è vivere da padroni aver perso di vista che la vigna è un dono che è stata gratuitamente generosamente messa nelle loro mani del quale devono renderne i frutti e quindi di conseguenza non cercano più gli interessi del padrone il loro fine non è più coltivare la vigna ma possederla il papa ci ha ricordato che in ogni epoca coloro che hanno un'autorità qualsiasi autorità anche nella chiesa e nel popolo di dio possono essere tentati di fare i propri interessi invece di quelli di dio stesso e gesù dice che la vera autorità è nel servire non nello sfruttare gli altri la vigna è del signore non è nostra l'autorità è un servizio e come tale va esercitata per il bene di tutti e la diffusione del vangelo perciò miei cari è importante in primo luogo ricordare che la vita è un dono e con essa ogni bene che c'è donato è un regalo che dovremmo un giorno rendere a dio ricordare che la nostra vita un termine ci fa bene ci aiuta a ritrovare il senso delle proporzioni a stare nel limite in quel limite creaturale che ci ricorda che non siamo dio ma siamo teneramente amati da lui questo limite non è prigionia non significa vivere nella paura ma poter vivere nella pienezza il mio quotidiano sapendo che è un dono un regalo che mi è dato perché lo faccia fruttificare chi vive nella logica dell'amore chi ha veramente incontrato il signore non ha tanta paura della morte sa che non è un punto ma una virgola sa che non è la fine di tutto ma un incontro il problema conseguente dei vignaioli dunque che si sono impossessati della vigna è rifiutarsi di rendere i frutti al padrone se la vigna rappresenta il popolo di dio che il signore ha affidato alla cura dei capi religiosi dobbiamo tener conto che riguarda ciascuno di noi perché a tutti è affidata la cura di qualcosa siamo nati per amore e per amare e il signore ci ha consegnati gli uni agli altri ci affida alla cura gli uni degli altri ricordare che un giorno il signore mi chiederà quanto ho amato cosa ne ho fatto delle persone che ho accanto quanta cura ne ho avuto fa bene al cuore ci aiuta a rivedere e per grazia sua a raddrizzare la nostra vita rendere conto in fondo significa dire per cosa abbiamo vissuto e ci farà bene chiederci per cosa sto vivendo cosa ne sto facendo delle persone che dio mi ha affidato da sacerdote da religiosa da padre da madre di famiglia da persone in cammino da responsabile di non so quale ambito della parrocchia cosa ne sto facendo delle persone che dio mi ha affidato ma vedete miei cari dio non ci chiederà conto solo alla fine della nostra vita ma continuamente il signore viene a chiederci i frutti e come come ha detto bene don fabio rosini mediante le persone che noi abbiamo accanto ad esempio un figlio chiede al genitore che sia presente a una madre che sia una donna adulta che sa prendersi cura della vita senza soffocare la vita con la sua onnipresenza chiede a un padre di non essere un despota o un turista che gira per casa ma di essere una presenza forte tenera capace di indirizzare un amico chiede a un amico di essere presente ma significativo non uno che accarezza le orecchie dicendogli quello che vuol sentirsi dire ma ciò che è veramente bene anche a costo di essere scomodo un malato chiede ogni giorno cura attenzione in fondo ogni persona che abbiamo accanto ci chiede ma nel tuo cuore c'è un po d'amore per me e poi ci sono appunto i doni della vigna che il popolo santo di dio la gente chiede alla chiesa i cristiani di essere manifestazione visibile di quell'amore che proclama che professa e di non fermarsi alle chiacchiere una persona chiede un sacerdote che non sia un narcisista carrierista o non so quale burocrate o affarista ma di essere un padre spirituale una persona chiede a una religiosa di essere una madre nella fede non una zitella inacidita un ateo chiede a un cristiano di mostrargli con le sue parole e suoi gesti quel dio che ancora non ha incontrato insomma miei cari mediante le persone che abbiamo accanto dio ci chiede i frutti di questo rapporto con lui del nostro andargli dietro e ha diritto a chiedercelo infine miei cari il terzo nodo esistenziale serio che cogliamo dall'atteggiamento dei vignaioli è il fatto di voler uccidere il figlio per carpirne l'eredità fuori metafora il grande problema dell'umanità pensare di essere dio senza dio pensare di poter essere felici mettendo alla porta il signore quante volte facciamo lo stesso se non a livello teorico a livello pratico quante volte mettiamo fuori gesù dalle nostre scelte quante volte teniamo alla porta il signore perché temiamo possa chiederci qualcosa o toglierci qualcosa di ciò che abbiamo coltivato o che abbiamo conquistato nella nostra vita questo inganno ci porta a ripiegarci su noi stessi e a cadere nell'autoreferenzialità proprio per questo dio si è fatto uomo in gesù è morto e risorto per noi e rivelarci che non dobbiamo aver paura che lui ci ama che lui il nostro tutto che non viene per togliere ma per dare senso e pienezza alla nostra vita cari fratelli e sorelle in conclusione gesù dirà fate bene attenzione perché quella pietra che voi state scartando che sarebbe lui stesso sarà pietra d'angolo e quel regno dei cieli del quale vi sentite possessori sarà voi tolto e dato da altri se come ha detto bene il cardinale ravasi il signore si riferisce in primo luogo a quella nuova generazione di fedeli al signore alla sua alleanza che la chiesa in secondo luogo a livello esistenziale possiamo vedere qui un monito serio importante per la nostra vita perdere o comunque disperdere i doni di dio vedere affidato da altri ciò che lui aveva sognato per noi dobbiamo comprendere che questo vignaiolo omicida non è l'altro ma è sottilmente presente nel cuore di ciascuno di noi e viene a galla ogni volta che taglio fuori il signore dalle mie scelte che tendo ad impossessarmi delle cose che mi rifiuto di rendere i frutti di una umanità adulta di relazioni belle e sane vissute nel nome del signore per questo il signore ci dona la sua grazia e ci ha donato questa parola per smuovere il nostro cuore e muoverlo a conversione perché possiamo passare dalla chiusura all'apertura dall'ingratitudine alla gratitudine dal possesso al dono guardiamo con questo sguardo la nostra vita impariamo a riconoscere quanto siamo amati perdonati quanta bellezza dio abbia seminato nella nostra vita la grazia di tante persone che ha affidato alle nostre cure riscopriamo tutto ciò come un dono prezioso e grati chiediamogli la grazia di prendercene cura per poter un giorno rendere tutto a lui in un cantico di lode come fu per santa chiara che alla fine della sua vita disse signore ti ringrazio per avermi creata che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti ti